russolata una cipolla in un fondo d'olio extravergine d'oliva una volta dorata aggiungete le lenticchie e lasciatele tostare per qualche minuto versate poi dell'acqua a temperatura ambiente e una batata come nel mio caso o una patata se preferite tagliata a cubetti portate a bollore quindi salate e aggiungete delle altre verdure sedano carote zucca pomodori broccoletti quello che preferite a metà cottura io aggiunto anche delle biete tagliate a pezzi e ho servito con un filo d'olio extravergine d'oliva crudo